E sicuramente anche io sono rinuncio ad essere qua, a differenza di chi è venuto prima di me, sono qua per essere un po' testimonio, la nostra concittadina, la Palvio è un paese piccolissimo, ma si trova a confine l'ultimo paese dall'alto senato, tu mi dicevi prima, ci sei passato, abbiamo anche il piacere di avere tantissime bellezze, e sicuramente quando Giuseppina e Umberto, Giuseppina che poi è l'autrice e anche tu lei nel libro, ha scritto queste belle parole, spero di essere come dire autorevole, portatore oggi e poi mi auguro che molti di voi avranno modo di leggere, che Umberto mi hanno parlato, non pensavo, nel primo momento, sapevo che tutto questo movimento che c'era, questa passione per l'altro Capaglio proprio nel 2008, è stato protagonista di un momento della nostra associazione, ha ospitato un evento importante, non pensavo veramente così di poter trovare delle parole, ma soprattutto delle descrizioni, che raccontano Giuseppina, raccontano di lei sicuramente, e vi dico, spero di poterli in qualche maniera far partecipi di questo, ma raccontano anche di qualcosa di più grande. Quindi a me questo onere, però che io rappresento al di colore, perché insomma, quando della propria terra se ne parla, anche oggi è una giornata un po' particolare per noi italiani, perché vengono commemorate le due vittime che sono appunto tornate, le vittime della guerra, io credo che poi i messaggi importanti di cultura, di amicizia, di pace, partono appunto da iniziative come queste, vedono che devono essere conti veramente da tutti, con grande attenzione e rispetto, e soprattutto devono essere anche portagliuntori e momenti e strumenti di grande partecipazione. Sono nata in Etiopia e vivo a Capalco, nutro l'orgoglio di avere sangue misto l'Italo-Etiope, che oggi servono anche a Palpesi. Ho viaggiato in tutto il mondo, manca parviamenti, ho cercato un buon ritiro qua, un posto che può essere aria di russureggiata, ancora selvaggiamente naturale, dove i profumi della natura si fondono armoniosamente nei quattro elementi, acqua, bella, fuoco, aria. Ho la gioia di condividere la realtà quotidiana come i miei amici maremani, sorprendentemente è la stessa che ho condiviso nel passato con gli affari, superbi cacciatori e guerrieri, d'anca di tribù alla quale mia nonna, Aminseth, mi auguro di aver ben pronunciato, era orgogliosa di discegliere e di appartenere. Questo è un saggio di questo libro, Abeva, Arte, del gioiello Etico-Etiope. Io spero veramente che l'amica Giuseppina Bellizzari, insomma, possa, come dire, saper tramandare questa tradizione che ha imparato a tutti quanti, a tutti noi, sicuramente Capaldone sarà testimonia, io mi auguro che si possa ospitare anche una mostra, un evento, ecco, 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 veramente sarei rietro che proprio quest'anno che Capaldone celebra 50 anni dalla sua nascita, c'è anche un momento anche di grande attenzione che c'è su questo paese che proprio ieri era sulle tv nazionali, io mi auguro che possa catalizzare anche l'attenzione su questo. Perché? Mi spiego per te. Il progetto della multicultura, così come prima ci raccontavano, che rappresentava il comune di Roma, in qualche maniera ci rappresenta la nostra piccola realtà di Capaldone, dove comunque si integrano numerose, no? Culture provenienti soprattutto dall'est europeo, ma provenienti anche dall'Africa. E quindi io credo che, insomma, in qualche maniera si possa essere anche noi lo strumento di questo. E qui in questo libro, queste pagine, oltre che la bellezza di questo tesoro che rappresenta l'Africa, che rappresenta la prima consiglieri, appunto applicato nel comune di Roma, questo tesoro bellissimo, le pieghe, i monili, le reali che vengono utilizzate, che in qualche maniera poi trovano paragoni in quello che è, perché poi c'è questo dualismo, questa rappresentazione, no? Di questa terra bellissima, in questo lago di Laglia, dove il pane si è partito tutto, lago di Aguas Spure, che in qualche maniera è argilloso, no? Peraltro meca oggi di turisti, e chi in quanto lo voglia, in queste strade tortuose, ma ci si arriva, è bellissimo, e poi in qualche maniera la rappresentazione della Capalbio che io conosco e che in qualche maniera anche Giuseppina Bellizzani ha pensato, credo, abbia colto in tutto il suo splendore. Quindi veramente con orgoglio che oggi sono qui a testimoniare, è una piccola cosa, ho detto tutto, non è molto rispetto al più grande progetto che c'è nella questa. Veramente con questo pensiero io auguro a Giuseppina e soprattutto a tutta l'associazione che sta facendo un ottimo lavoro per confisso, insomma, tutti gli appuntamenti di questi ultimi tre anni, appuntamenti importanti, appuntamenti soprattutto di spessore, caratterizzati, da grandi messaggi che partono, ma soprattutto poi, e questa cosa più importante che a volte hanno i politici, ma anche a tutti, è quella della competenza dei banchi, e quindi veramente con questo io mando così idealmente un grande e un forte abbraccio a Giuseppina Pellizzari e soprattutto all'associazione e tutti coloro che collaborano e spero di avervi in presto ospiti a Capabio per un evento che testimoni questo rapporto di interculturalità con l'Etiocchia, ma io dico col mondo intero perché il messaggio di pace e di amicizia sia veramente grande e forte perché ce lo meritiamo un po' tutti, no? Questo è un po'. Buona giornata. Grazie. Grazie.